Questa impronta rappresenta la nostra carbon footprint. Ogni persona in Italia produce in media 7 tonnellate di CO2 l'anno, una quantità enorme che ci rende dei giganti che pesano sull'ambiente. La proporzione è facile. Se il piede di un uomo di 80 kg misura 26 cm, quello di un gigante di 7 tonnellate misura 23 metri. Ma la CO2 è invisibile e quando qualcosa non si vede è più facile che venga ignorata. Noi di E.ON vogliamo oggi rendere visibile l'invisibile per fare in modo che ciascuno di noi diventi consapevole della propria impronta sul pianeta. Lo abbiamo fatto con un'installazione unconventional realizzata da artisti specializzati nella lavorazione naturale della savia. Ridurre la nostra carbon footprint è essenziale ed è una priorità per noi. Per farlo vogliamo sensibilizzare le persone e creare la più grande green community italiana. È una sfida che coinvolge tutti. Per questo è necessario cooperare con le comunità locali per ridurre i consumi e rendere l'Italia più verde e indipendente energeticamente. Solo uniti possiamo raggiungere grandi obiettivi. È ora di agire! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!